Devo dire che è una giuria molto importante dove ci sono appunto i principali rappresentanti dei teatri del mondo praticamente. Io sono l'unica cantante e quindi forse per me il metodo di giudizio oppure l'ascolto è diverso probabilmente dagli altri membri. Sono preoccupata per loro quasi. L'attenzione al repertorio, lo studio e l'approfondimento dei ruoli che si devono affrontare, capire la storia di un personaggio. Capisco il nervosismo, capisco l'ansia di trovarsi di fronte a questo tipo di giuria ma devono comunque, comunque è una sfida, comunque anche il palcoscenico crea ansia e quindi bisogna imparare a dominarla e a dare il meglio di sé. Grazie.